Schella, schella marz, è il saluto all'inverno e il benvenuto alla primavera, quello che risuona nell'altopiano di Asiago, dove a ridosso dell'inizio del mese di marzo, il fragoroso frastuono di bandoni, ciocche, le campanelle e schelle, i campanacci delle vacche, saluta il risveglio della natura. Dopo la pausa causata dalla pandemia da sabato 26 febbraio a lunedì 28 febbraio, l'appuntamento per bambini, ragazzi, adulti e nonni sarà all'evento in piazza Risorgimento ad Asiago, per la rumorosa sfilata dei bandoni che si chiuderà lunedì con la tradizionale bruciata della veccia, sotto gli occhi di ospiti di riguardo, orchi, folletti e le zee di Gembayblen, le fatine di un metro d'altezza e vestite di bianco che popolano le grotte dell'altopiano. Per i cimbri, antichi abitanti di queste terre, la primavera iniziava proprio il primo marzo, giornata in cui, a Camporovere di Roana, l'allegro vociare di bandoni e schelle si alzerà alle 20.30 dal campo sportivo. Manifestazioni che si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid. Per la partecipazione è necessario il Green Pass.